Maiorino al termine di Renate Ferralpisalo 2 a 3 una partita conclusa con la tua tripletta tanta gioia la prima in carriera per te Sì sono davvero contento oggi Dico a livello personale è stata una partita perfetta Prima volta in carriera che mi succede di fare tre gol in una partita E sono davvero contento per tutta la squadra Una vittoria importante adesso serve l'ultima prima dei playoff Per cercare ancora di cullare l'obiettivo del terzo posto Sì Domenico c'è l'ultimo sforzo da fare Sicuramente il Prodono è già venuto a campionato Però sicuramente non vengono a solo a farsi una passeggiata E noi dobbiamo fare punti per raggiungere il terzo posto